Tutti negativi gli indici di piazza affari e degli altri principali listini europei, che fanno un passo indietro Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Banca MPS, mostrando un incremento del 2,33% Le più forti vendite si manifestano su Montlare, che prosegue le contrattazioni a meno 2,24% Tra le principali materie prime, lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,23% È previsto domani sia dall'Unione Europea che dal Regno Unito l'annuncio dei prezzi al consumo. Ancora mercoledì, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle scorte di petrolio Giovedì, sempre negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul fil di Fed